L'Associazione Amici della Biblioteca di Nembro e Laboratorio 30 hanno organizzato un'iniziativa di film festival su Sarajevo. Con noi abbiamo il Presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca di Nembro, Luigi Battaglia. Questa iniziativa nasce nell'ambito della ricorrenza dei vent'anni della guerra in Bosnia. Sono circa vent'anni che la guerra è cominciata, che si è sviluppata. Per stare dentro questa ricorrenza a Bergamo è nata un'associazione di fatto che si chiama Bergamo Balcani. Questa associazione ha già organizzato nell'arco di questi anni scorsi varie iniziative. Dentro queste iniziative ci sta anche questa che abbiamo organizzato noi amici della biblioteca insieme con l'Abo 80 di Bergamo, con il patrocinio del comune di Nembro e del comune di Albino. Questa iniziativa dicevo che sta dentro questo percorso, cioè star dentro quello che è avvenuto, ricordare, discutere, soprattutto ricordare e riflettere su quello che è avvenuto nei Balcani, nei vent'anni fa, in quel quinquennio che va dal 91 al 95. Quindi ci è venuto l'idea di organizzare questa rassegna cinematografica che, se uno poi vedrà i nostri flyers, i nostri rubricità che abbiamo fatto, si avvale anche questa rassegna di una presentazione di Gigi Riva, che è il giornalista, credo sia il caporedattore esteri dell'Espresso, che ha scritto delle cose molto interessanti per sostenere questa nostra iniziativa. Quindi questa nostra iniziativa si concretizza in proiezioni. Il 20 ad Albino, il 27 ancora ad Albino, il 6 si salta di marzo a Nembro, il 20 perché c'è uno spazio per lasciare libero la bottante di fare il Bergamo Film Festival, il 20 ancora a Nembro, il modernissimo, per finire il 27 a Bergamo. Questi film sono film abbastanza conosciuti, direi, non sono delle novità, salvo un paio, salvo il cinema comunista e Crivina, gli altri sono molto conosciuti perché i registi sono molto popolari, molto conosciuti. Quindi non abbiamo la pretesa di dire delle cose nuove, abbiamo solo la pretesa neanche, abbiamo l'intenzione di proporre delle cose che anche se sono abbastanza nostre riportano l'attenzione ai Balcani anche in questo momento che sono 20 anni dopo.